Utilio Fontana, visita a Lecco, cosa ne pensa del territorio della provincia di Lecco? Un territorio importante, un territorio che noi abbiamo guardato in questo periodo con grande attenzione, un territorio che ha sicuramente da ottenere dei miglioramenti, soprattutto in sede delle infrastrutture di collegamento, ma che grazie alle Olimpiadi si potranno realizzare. È riuscito a traghettare la Lombardia fuori da un momento difficile, da anni difficili come quelli che abbiamo passato, lo ha fatto con un grande piano di rilancio e di sviluppo, che è il famoso piano Fontana, che ha portato 4 miliardi di euro sul nostro territorio, ha creato l'1% di PIL in più alla Lombardia e ha creato 60.000 posti di lavoro grazie a tutti i lavori pubblici che si sono attivati in Lombardia, facendo lavorare aziende lombarde. Il Presidente Fontana e la maggioranza in Regione Lombardia, Tazione Lega, ha dimostrato in questi anni di fare veramente tanto per l'intera Regione e per il territorio lecchese. Regione Lombardia è diventata veramente un'eccellenza dal punto di vista economico e dal punto di vista dei servizi, con una grande attenzione anche alle fragilità e ai soggetti più bisognosi. Vuol dire che è una maggioranza, ha una trazione leghista che non può permettersi l'elettorato di pensare di cambiare. Il Governatore Fontana ha gettato le basi per una ripartenza, un rinnovamento della Regione Lombardia dopo la tempesta del Covid e la crisi che è giunta e deve continuare il suo lavoro. È stato già fatto un lavoro ottimo perché i numeri lo dicono. Sostengo il Governatore Fontana perché in questi anni ha dimostrato di saper progettare, di guardare lontano il futuro della Lombardia, non solo attraverso investimenti sul territorio, potenziando e ascoltando i vari comuni, ma soprattutto investendo su quello che è il mondo della scuola, e il mondo del lavoro, della cultura.